A volte sono le piccole cose a fare la differenza, come Smartfold, il triciclo che cresce insieme a te e si apre in pochi secondi, con tecnologia Touch Steering per una guida sicura e confortevole, leggero e compatto, perfetto come bagaglio a mano. Quando è chiuso, occupa l'85% di spazio in meno delle sue dimensioni originali. La vita è un viaggio, vivila con Smartfold. Grazie.